L'intervento dei bicicletti sulla palla che schizza indietro... Lascia perdere papà, tu di calcio non ne hai mai capito niente, non ne capisci niente. Non capisco niente, ha parlato il genio. Qua nessuno capisce niente, un'estorione. Questa è l'America in Italia, non c'è mai. ...che scocca un tiro parato dal portiere catenese. La remessa del portiere Manazzi, Franza, che avanza sulla destra e allunga la palla di Zecchini per ronato la retorica imposta a razione di contropiede del Cagliari con un lungo passaggio sulla destra per Cavazzuti e la lotta con Toros. Passaggio per Sonna che tira da lontano, parato di Venozzi. Proprio non vedo la palla, ma che fa che sto facendo, si confondi con i... Alla meglio così che scatta, scambio volante con bicicli. Possì si avvicina all'aria, tiro parato. Ma sulla remessa riprende mezzolina e cambia il gioco dalla parte di la remessa. Passaggio di Venozzi. Sì, ma ancora non è che è finita la persa. Sì, va bene, ma andando a segnale. Al diciassettesimo del primo tempo... Grazie.